Allora, bentrovati, mi presento molto velocemente, mi chiamo Danio Berti, sono docente di web marketing e comunicazione presso l'Università degli Studi di Firenze, dirigo un laboratorio di web marketing che si chiama WemPark, che vedete in alto nella prima slide. WemPark è un laboratorio molto particolare perché sostanzialmente a differenza di molti laboratori universitari è un luogo aperto dove sostanzialmente si può in qualche modo avvicinarsi, fare ricerca, partecipare a tutte le iniziative perché abbiamo una missione, quella della divulgazione della cultura digitale. Oggi parliamo di consumer behavior che è all'interno del marketing un tema che direi è assai dibattuto, assai studiato e soprattutto il consumer behavior online, quindi il comportamento del consumatore che sta cambiando, cambiando radicalmente e molto velocemente e cercherò di darvi alcuni insight su quello anche noi che stiamo facendo. Tra l'altro è oggetto di ricerca per il laboratorio e insieme a Doxa Milano conduciamo delle ricerche proprio sul consumer behavior, soprattutto online. Ecco allora partiamo prima di tutto con il capire che cos'è questa economia 4.0 e questo consumatore come cambia nel tempo. Qua vedete nel grafico che vi presento, innanzitutto si parte dal 1900, sto parlando di Italia, stiamo parlando di un marketing che parte, un marketing digitale nel 1995. Perché? Perché in Italia per la prima volta nel 1995 si entra in internet, apre il primo ISP, Internet Service Provider e quindi le persone possono navigare. Possono navigare e il nostro consumatore come vedete è un consumatore passivo, è un consumatore che cosa fa? Ricerca informazioni che peraltro in quel periodo di tempo sono informazioni soprattutto di origine anglosassone, perché in Italia come dire ancora internet è tutto da scoprire. Pian piano si va dal 1995 al 1999, il nostro consumatore esplora la rete, per certi versi incomincia a sperimentare quello che noi chiamiamo percorsi di serendipità. Cioè l'esplorazione diventa come l'esploratore in qualche modo dell'Ottocento che entra in dei mondi sconosciuti e prova a piacere, come dire, in qualche modo a fare delle scoperte inattese. Quindi questo diventa estremamente interessante, però è un periodo come dire, in cui il consumatore è fermo. Arriviamo al 99, il 99 diventa un momento abbastanza interessante perché prima grande crisi dell'economia digitale, 99 barra 2000. Vedete i miei capelli bianchi, ho iniziato a quei tempi con alcuni compagni di avventura a esplorare la rete, quindi oggi direi quasi mi sento un po' un dinosauro, no? Fortunatamente ho tanti giovani che mi seguono, però nel 99 succede che l'economia digitale subisce un fortissimo arresto. Forte arresto, crisi dell'economia digitale, un caso su tutti, come dire, Tiscali, Tiscali aveva avuto una capitalizzazione di borsa di oltre 200%, arriva nel gennaio del 2000 e crolla il titolo in borsa. Quindi l'economia digitale, io mi ricordo i titoli allora del Sole 24 ore, Old Economy versus New Economy, come se le economie fossero due, come se, come dire, non si vivesse in un'unica dimensione economica ma in qualche modo ci fosse una contrapposizione. Ebbene, nel 99, grande crisi, i primi grandi investitori, mi ricordo insomma il fondo Kiwi e altri, incominciano, si leccano le ferite perché perdono tanti soldi in, come dire, nelle avventure digitali, ecco che dal 2000 in poi, come dire, si raffredda tutta l'economia digitale. Però è un raffreddarsi apparente perché nel frattempo circa dal 99, 2000, 2001, 2002 iniziano ad apparire i primi segni, i primi segnali che poi saranno destinati a cambiare quasi direi per sempre la connotazione della rete. Perché? Io ho inserito il 2004, ma il 2004 è già una data tarda perché nel 2004 nasce tecnicamente Facebook. Ma mi interessa relativamente Facebook in quanto strumento social network nasce. In realtà, come sapete, molti social network nascono prima negli anni 2001, 2002. Io ricordo per correttezza anche scientifica il primo, Six Degrees, il primo social network che nasce e che si fonda sulla teoria dei 6 gradi di separazione. Molto interessante. Ecco, lo sapete oggi, alla luce di Facebook che nasce nel 2004, teoria dei 6 gradi di separazione che, come sapete, nasce in tutt'altro ambito, non in ambito digitale. Oggi Facebook ridisegna la teoria dei 6 gradi di separazione, non sono più 6 gradi, ma diventano 3,4 addirittura. Quindi, nel 2004, prima del 2004, si aprono le prime esperienze di social network, ma che però non hanno successo. Questo è il problema. Poi c'è da capire perché, non so, l'una storm piuttosto che altri non hanno successo. E si arriva al 2004, quando invece Facebook riesce rapidissimamente a fare quello che gli altri non sono riusciti a fare prima. Cioè, aggregare una grande massa di consumatori, di navigatori all'interno del proprio spazio e soprattutto farli colloquiare. Per la prima volta i soggetti, i navigatori, i cybernauti, vedete, ecco che incominciano a interagire fra loro all'interno della rete. Senz'altro è molto interessante, però, se spostiamo l'ottica dagli individui, dai cybernauti, a un'ottica di impresa, perché la nostra, come economisti, è un'ottica di impresa, ecco che allora l'impresa si accorge in quel momento che, nel 2004, che in realtà può colloquiare con tanti soggetti contemporaneamente. quel concetto, pensate, che nasce negli Stati Uniti e che fa riferimento a un concetto di marketing che in letteratura, come dire, è una, direi, pietra miliare, marketing one to one, marketing uno verso uno, che appare per la prima volta, come dire, come titolo, pensate nel 91 negli Stati Uniti, nel 2004, anche in Italia, può essere, come dire, in qualche modo realizzato. Quindi l'impresa può fare relazione con il produttore all'interno di una pagina Facebook. Questo cambia la prospettiva, perché a questo punto, se instauro una relazione, quando si parla di relazione, vuol dire relazione di adica a due all'interno del tempo, di un'asse del tempo. Questo diventa importantissimo. Pensate come cambia l'ottica. Allora, colloquio con il mio consumatore, interagisco e poi, oi boh, posso fare anche un'altra cosa, lo posso ascoltare. Quindi l'ascolto della rete che prende le mosse di fatto da quei periodi in poi, ecco che diventa estremamente interessante perché il consumatore inizialmente, vedete, spassa verso un'economia 3.0, dove diventa co-creatore. Co-creatore perché? Perché parlando, ci sono dei casi, come dire, che sono stati riportati. Mi ricordo Silvia Vianello, per esempio, che insegna Sdabocconi Digital Marketing, è stata una delle prime ad osservare, per esempio, a studiare il caso Ducati. Ducati, ascoltando che cosa si dice all'interno dei forum di Ducati, all'interno, come dire, del blog Ducati scopre che cosa? Che ci sono delle piccole pecche in alcune parti, come dire, dei componenti della moto e che quindi si vanno poi a sostituire. Ma di questo poi ce ne sono tantissimi altri esempi. Ecco che il consumatore inconsapevolmente diventa co-creativo. Dopo lo diventerà, però, consapevolmente. Cioè, incomincia a, come dire, acquisire una certa consapevolezza e il consumatore partecipa ai processi di co-creazione in maniera più codificata. E questo fino a ieri, fino al 2016. Le tendenze, le ultime tendenze, dove è che stiamo andando, dove è che andremo. Io vi ho raccontato in due secondi qualche cosa che per noi è oggetto di studio, insomma, lo studiamo dalla mattina alla sera. Ma il consumatore, da questo punto di vista, assume un'ulteriore dimensione. Perché? Perché, pensate, siccome il consumatore partecipa attivamente ha delle comunità e quindi partecipare vuol dire, in qualche modo, anche, ridefinire il modo con cui il consumatore vive la propria relazione con il brand, con un brand. Nascono le comunità, per esempio, di brand. Pensate, mai Nutella, Ferrero. Oppure pensate al caso, che sicuramente è riportato in molti testi di marketing, di Winner Taco. Se pensate al caso Winner Taco, in cui, come dire, quando Algida decide di eliminare dal mercato il gelato, il Winner Taco, due semplici ragazzi di strada incominciano a dire, no, noi si rivuole Winner Taco. E scrivono la pagina, aprono la pagina Facebook, ridateci Winner Taco. Da 2 diventano 20, diventano 200, 2000. Tant'è che poi fanno un'azione di boicottaggio nei confronti, come dire, di Algida. Per farla breve, Algida, dopo qualche anno, riproduce nuovamente Winner Taco, perché i marketing manager di Algida erano disperati, perché non potevano fare nessun tipo di azione di marketing verso, come dire, non so, altri tipi di gelato che non arrivassero questi sulla cosa e dicessero, rivogliamo Winner Taco, rivogliamo Winner Taco. Quindi, tipo bambini che battevano, come dire, i piedi sul pavimento. Pensate, vi do un insight interessante, il momento in cui Algida riproduce, dichiara di voler riprodurre, a Ponte Milvio a Roma, questo lo potete, è documentato anche su internet, a Ponte Milvio viene fatta una statua enorme in carta festa di Winner Taco e tutto il popolo di Winner Taco si reca sotto e dice abbiamo vinto e ora che facciamo? Ora, io vi ho riportato questo esempio che è abbastanza, però è predittivo, indicativo di una cosa che è molto anche preoccupante, almeno dal nostro punto di vista. E la questione è questa. Siccome oggi abbiamo delle fanbase, si direbbe, che normalmente è un termine che si usa in ambito calcistico, molto molto forti, pensate che si riconoscono, c'è un processo di riconoscimento nel brand, quindi io nel brand riconosco parte di me stesso, si arriva a in qualche modo pensare che il brand non appartenga più del tutto ed esclusivamente all'impresa. È come se oggi, ripeto, mai Nutella di Ferrero, domani Ferrero annunciasse di cessare di produrre Nutella. Io credo che in Italia avverrebbe una rivoluzione civile, una rivoluzione civile. E questo apre un tema, apre un tema che è interessantissimo e apre un tema che è anche molto preoccupante. Perché? Quanto i brand, i grandi brand che hanno delle fanbase così importanti poi alla fine, posseggono il brand? O il brand diventa un bene, direi quasi pubblico. Quanto si può gestire un brand in un'ottica aziendale? Ma soprattutto la rete e soprattutto questi strumenti hanno dato un'ulteriore possibilità e cioè quella di in qualche modo diventare sempre più, Kotler gli chiama evangelisti del brand, ambasciatori, ma l'evangelista ha una caratterizzazione ancora diversa. È colui che lo sente così proprio che indipendentemente da quello che fa l'azienda, come dire, lui evangelizza, lui ne parla. Ma come ne parla? Qualche giorno fa avevamo all'università, come dire, un seminario con Duccio Leoni che è responsabile comunicazione di Marchesi Antinori. E lui ha detto in aula in maniera molto chiara la nostra policy di comunicazione istituzionale è questa, ben rigida, pensate addirittura, quindi non dico niente che non possa dire, dice noi vogliamo comunicare Marchesi Antinori l'etichetta, la bottiglia basta, nient'altro. Non una bottiglia contestualizzata su un tavolo con dei bicchieri, con delle persone che bevono in maniera conviviale come dire, no, il vino è elemento di convivialità tra l'altro che viene fuori dai millennials. No, vogliamo la nostra policy soltanto, ma in realtà gli altri fanno tutt'altre cose, perché oggi quando si stappa a una bottiglia di vino, che sia una bottiglia Antinori piuttosto magari importante, una bottiglia importante, tutti quanti, come dire, ci facciamo il selfie, eccetera, e lo postiamo e quindi andiamo sui social facendo vedere quello che stiamo facendo. Pensate a quante foto di piatti, no, che arrivano al ristorante, girano in rete. Tra l'altro un'informazione, una notizia che ho letto poco tempo fa, per la prima volta, pensate, nel 2017, l'uomo è riuscito a produrre così tanto sapere in un unico anno quanto non ne ha mai prodotto dall'origine, fin dagli inizi della storia conosciuta. Pensate, in un anno abbiamo prodotto la stessa quantità di sapere dalla preistoria ad oggi. È impressionante questo. Quindi è impressionante perché? Perché evidentemente questa è un'economia, ho sentito addirittura Gianluca Diegoli prima di venire nell'altra sala dire ma forse ci dobbiamo riappropriare del marketing. Ora, detto da lui, come dire, in qualche modo insomma mi fa pensare, no? Ok. Però detto questo, ecco capite questo consumatore che tipo di mondo ha di fronte e questo consumatore co-creativo andrà sempre più verso quello che noi si chiama il craft consumer, cioè la rete, le imprese si accorgono che possono in qualche modo cambiare approccio al mercato. Mi spiego meglio, mi spiego meglio. L'approccio tipico al mercato di un'impresa fino a ieri è stata di questo tipo. Tu mi chiedi, consumatore, una cosa, io ti do una risposta in termini di offerta. Quindi l'approccio è di tipo problem solving. Tu espliciti un problema, io in qualche modo soddisfo questo tuo bisogno. Bene. Si cambia approccio perché? Perché adesso è possibile rispondere a dei bisogni che sono certamente più generici ma allo stesso tempo anche molto più verticali attraverso un approccio di tipo problem finding. Certo. Cioè io, in presa, ti metto a disposizione tutti gli strumenti per far sì che tu da solo ti possa in qualche modo risolvere il tuo problema. Ma questo, ora vi faccio degli esempi concreti, questo ha un'implicazione pensate dal nostro punto di vista micidiale. Perché? Perché fa nascere all'interno di mercati, mercati nuovi, all'improvviso. Esempio applicato. Mercato della birra. Tutti noi andiamo al supermercato, andiamo nei negozi specializzati e compriamo la birra. Ma quanti di noi iniziano a farsi la birra in casa? Non solo attraverso portali che ti vendono già soluzioni come dire tipo la mia birra, birra mia piuttosto che altri. Birra mia, per esempio, è un caso di successo. Birra mia. Comprate il kit, ma sempre di più le persone, i consumatori, vanno, scoprono come dire, le modalità e quindi vanno a scegliersi magari il luppolo, vanno a scegliersi la cosa particolare e l'ingrediente particolare e lo vanno a cercare in rete come nei posti più sperduti. Il consumatore quindi vuol dire che diventa sempre più artigiano, gli piace fare le cose. Ecco i nuovi mercati. Valdani, insegna in Bocconi, noto esponente del marketing a livello italiano, dice nascono sempre più metamercati. Dove i mercati non sono più una cosa e non sono più un'altra, ma esisteranno tutte e due, non è che smetteremo di comprare birra al supermercato. State tranquilli, questo non avverrà, ma allo stesso tempo. Pensate a tutto quello, ho fatto una tesi recentemente a uno studente molto istruttiva sul veganesimo, no? Ecco, pensate, a livello italiano i consumi vegan sono molto molto al di sopra rispetto a quelli che sono, come dire, le dichiarazioni di coloro che dicono io seguo una filosofia vegana, di alimentazione vegana perché, come dire, ho alcuni convincimenti, oppure per motivi salutistici. Quindi vuol dire che le persone normali, che non si guida filosofica, ogni tanto vedono un brand vegan, ok, lo compro perché penso che mi faccia bene, no? Magari ho mangiato in maniera più pesante e poi compro qualche cos'altro che magari ha il brand, al marchetto vegan sopra. Quindi è un'economia, tra l'altro, molto schizofrenica la nostra. Se andiamo a vedere dei dati di settori che crescono e muoiono, una cosa vi posso assicurare che ci si capisce davvero poco. Esemplifico ulteriormente, sentivo parlare di grande distribuzione organizzata nell'altra sala e noi sappiamo che uno dei più grandi attori di e-commerce è Amazon. Ma Amazon cos'è che sta facendo? Sta andando a comprarsi dei supermercati fisici, brick and mortar. Walmart, che nasce, come dire, non digitale perché è il primo grande retailer a livello mondiale, cosa fa? Si fa GetCom. GetCom, come dire, per fare concorrenza Amazon. Cioè l'integrazione digitale, reale, diventerà sempre più, come dire, questa integrazione, questa omnicanalità, come si dice in gergo tecnico, diventerà sempre più, come dire, un driver di crescita da parte di tutte le imprese. Ma ritorniamo al nostro consumatore. Quindi il nostro consumatore Kraft è un consumatore che sempre più farà le cose, come dire, in casa, se le farà per conto proprio. Citavo prima i vegan, il sottogruppo dei crudisti, per esempio. Ecco, i crudisti, pensate, nasce un nuovo mercato. Perché? Quando mai avete sentito parlare qualcuno che in casa compra un elettrodomestico, compra l'essiccatore da tavolo? Oggi si compra l'essiccatore da tavolo. Se voi andate a una delle più note aziende oggi, fa un marketing spettacolare, bellissimo. Ti vende l'essiccatore. Andate pure a vedere una marketing manager bravissima, Tauro Essiccatori, e quindi oltre alla pasta fatta in casa, tutti noi ci facciamo la pasta, il pane, ci facciamo tutto, adesso facciamo anche essiccazione. Lavoriamo molto. Questo Kraft Consumer quindi guiderà quello che succederà da qui a qualche tempo. Pensate, e chiudo la slide con una riflessione Barilla. Barilla nel 2017 ha già presentato la stampante 3D per fare la pasta di semola di grano duro in casa. Quindi si andrà al supermercato, compreremo, state tranquilli sempre, lo spaghetto numero 5, però contemporaneamente potremo comprare anche il sacchetto con la pasta di semola e grano duro dentro da mettere nella nostra stampante con una particolarità che il tipo di pasta, la trafila, ce la faremo bene. Quindi è come dire io stasera invito tutti voi e vi faccio mangiare il chiocciolone Berti. Dice che roba è? E quindi è una roba. Ma detto questo è quello verso cui noi stiamo mandando. Ok. Vado veloce perché rischio di non terminare. E partendo dal consumer behavior per darvi alcuni insight, sono insight anche che vi ho preparato abbastanza freschi, che mi arrivano direttamente da WSGN dove tra l'altro è responsabile marketing di WSGN, una nostra ex studentessa e quindi responsabile Europa, per cui ogni tanto mi dà qualche primizia. Voi conoscete probabilmente la più institute research che a un certo punto ormai qualche anno fa presenta forse quella che è diventata la più nota ricerca sul consumer behavior che è appunto la cosiddetta ricerca sui millennials. Niente di nuovo. La cosa nuova però in questa slide è un elemento, vedete no, l'asse del tempo e l'asse dell'età in basso e quindi la più institute individua la generazione Z che conoscerete senz'altro, i millennials la generazione Y e poi su su fino alla silent generation. Ecco, la cosa interessante e anche un po' nuova, ok, la cosa anche un po' nuova è che per esempio già, vedete, la parte dell'adolescenza generazione Z sta pian piano slittando e quindi si sta passando da un 0-19 anni a 24 anni. I nostri colleghi antropologi, sociologi ci dicono che l'età dell'adolescenza non può essere più considerata fino a 18-19, ma dovrà essere estesa. Questo a livello anche internazionale. Per cui avremo, come dire, dei giovani quasi adulti, però ancora adolescenti, perché a 24 anni, capite bene, insomma c'è da studiarci da questo punto. Ora noi come economisti, dico sempre, facciamo un esercizio abbastanza banale che è quello di, come dire, certificare, fare un po' una sorta di notai, no? Lo dicono gli altri studiosi, quindi noi lo prendiamo proprio. Però attenzione, questo ha delle implicazioni, lo sapete perché? Perché a livello mondiale, a livello mondiale, voi sapete abbiamo superato i 7 miliardi sulla Terra, questo segmento diventerà insieme ai baby boomers il segmento più importante e si stima la generazione Z oltre 2 miliardi di individui sulla Terra. Dal nostro punto di vista marketing, quindi, diventeranno senz'altro il segmento più importante. Però, ahimè, c'è una notizia brutta, che anche dal punto di vista sociologico, antropologico e anche psicologico, sono i consumatori più criptici, quelli più difficili da interpretare. Perché? Perché oggi le imprese, vi posso assicurare, stanno cercando ancora di capire come colloquiare con questi, con questo grande segmento. Qui avete poi, non so, vi verrà dato il materiale, alcuni insight sulle diverse generazioni. Una cosa interessante sulla silent generation, ho 10 minuti, ora forse anche meno, quindi 5, quindi devo andare molto veloce, che la coda iniziale sta tentando, quindi quando si parla di settantenni, si sta incominciando a colmare quello che viene definito il digital gap, cioè la presenza di, sto parlando per l'Italia, perché se si va in Europa e si va nel nord Europa, già ci sono comunità di consumatori, tra virgolette, silent, aging, che sono, come dire, più evolute rispetto all'italiano. I baby boomers, ovviamente, li avrete sentiti nominare più volte, quindi vi leggete, come dire, la cosa, la descrizione che ho riportato nelle slide, ecco, la generazione Y, la generazione Y, che più o meno, insomma, è stata anche dalla stampa, piuttosto che in qualche modo già diffusa da un punto di vista concettuale, ecco, riporterei soltanto la curiosità di questi soggetti e nella terz'ultimo rigo, vedete, sono soggetti e sono ricercatori di nuove esperienze, di esperienze uniche. Lì, per esempio, si vede che sono i tipici acquirenti, l'ho messo tra parentesi, di Neilo, di Neilo, non so se conoscete Neilo, dell'unghia intelligente che si applica sull'unghia reale e attraverso la quale si possono fare un sacco di cose. Sono loro che vanno a comprare questo tipo di prodotti, sperimentano nuove cose. Molto velocemente, la generazione Z è una generazione enigma, la loro casa è fatta di angoli mondo, probabilmente quei due bimbi sono di spalle ma collocano attraverso i device che hanno, sono anche più attenti, più ecologisti, ma ecco, vi proporrei subito, visto che mancano pochissimi minuti, alcuni insight su di loro. E le cose un pochino più nuove che arrivano, ecco, c'è uno studio appunto che viene riportato di VGSN, che è recentissimo, dove ci sono, come dire, si individuano due grandi cluster all'interno della generazione Z. La generazione Mi e la generazione Ui. Io e noi. Io e noi da che cosa sono caratterizzati? Vedete, la generazione Mi sono autocentrati, potremmo dire così sintetizzando molto. Coltivare uno stile di vita visuale è il primo dei loro pensieri e per questo sono assorbiti dalla costruzione del loro brand personale. Loro stessi sono un brand, spendono, pensate, dato Stati Uniti, questi giovani, soprattutto giovani, ragazze, teenager, circa una media di 360 dollari per beauty l'anno. Ma perché comprano tutti i rossetti, fard, tutta questa roba qua, no? Poi lo vedremo perché. Hyped culture. Passano il loro tempo sulle piattaforme di rivendita di prodotti, comprano prodotti di Supreme, Palace, Bape, sul mercato del resell. Se voi andate a vedere Boris Kunin, andatevi a vedere questa intervista a questo giovane americano, Boris Kunin, è una cosa impressionante. Lui fa la fila da Supreme, prende i prodotti, li rivende in strada, qualcosa che paga 50 euro, gliela ricomprano a 150 euro, a 170 euro. Il mercato del resell negli Stati Uniti vale adesso, analisti, 41 miliardi di dollari, no? Due euro. La cultura dei memi diventa una normalità. Andiamo velocissimamente. La generazione Wii, in questo caso, ecco, no? Sono un po' contrapposti, mentre gli altri sono autocentrati, questi in qualche modo proprio loro stessi diventano un brand. In questo caso, no? Noi ci sentiamo obbligati a prendere cura degli altri attraverso la nostra esperienza. Per esempio, si preoccupano del bene dell'umanità, hanno messo l'ambiente, la sostenibilità al primo posto, si accettano così come sono e non hanno paura di esporre loro difetti di fronte a una telecamera. Il sistema competitivo, oh, no, non dobbiamo farci competizione per essere ammessi, per esempio, all'università. Pensate la depressione. La depressione, oggi, tra le nuove generazioni e la nuova malattia, sta uccidendo letteralmente le nuove generazioni. Ci sono dei tassi di crescita della malattia, depressione, incredibili. Rifuggono la competizione e promuovono la collaborazione tra gli individui. Ok, perché ci mettiamo, come dire, tanto rossetto, ci prepariamo a qualcosa? Perché? Perché oggi il consumo, come dice Giampaolo Fabris, non è più un fatto individuale, ma è un fatto sociale. Tutto viene trasposto nella socializzazione e ecco che, mentre fino a ieri si parlava di blogger e youtuber, che non sono assolutamente spariti. Ci mancherebbe, noi abbiamo un osservatorio al laboratorio sui blogger che seguiamo, sia food blogger che fashion blogger, ma, attenzione, appaiono le howler e le muser. Howler, tanto per darvi un'idea, questa signora che viene rappresentata qua, non è altro che, come dire, la trasposizione di, si fa lo shopping, in questo caso, mi presento in cameretta, invece di andare dal babbo e dalla mamma a dire, oh guarda, ho comprato queste scarpe, ho comprato questo abito, che magari il babbo ha pagato con la carta di credito, eccetera. No, si chiudono in cameretta, incominciano la ripresa video e fanno vedere il loro al mondo, quindi ecco la socializzazione, i loro acquisti. Ebbene, cito soltanto un dato, le sorelle Flowers a fare Howler hanno 75 milioni di followers. Le muser, la muser, le muser sono coloro che usano Musical.ly, la piattaforma Musical.ly, perché ve la cito? Perché per la prima volta un'azienda italiana, Patrizia Pepe, ha chiamato una muser e le ha detto, ok, gestiscimi il mio accanto su Musical.ly, per una settimana, Elisa Maino, 14 anni, ha già oggi 4 milioni di follower. E ovviamente ce li ha ifersegmentati su quel segmento, muser, 12-16 anni, ma questo, come dire, ok, ci sono, ma questo, come dire, è quello a cui noi stiamo assistendo. Quindi, ipersegmentazione, tra l'altro, quindi teenager, teenager e anche, ecco, tutto quello che ci siamo detti in questi pochi minuti, ma mi dicono di stopparmi, a questo punto poi ci potete seguire su Wem Park iscrivendovi alla nostra digital community, che peraltro, come dire, è un'altra fonte di sostenimento del laboratorio. Vorrei finire con una frase di Francesco Morace, che certamente conoscerete, sociologo a Milano, insegna in Bocconi, dobbiamo potenziare il nostro talento nel produrre felicità quotidiana. Grazie a tutti.